Io sono qua da un anno e mezzo, però che la società faccia sul serio da un po' di anni, credo. Credo che sia la strada giusta. Certo, Missedetto e Lianiello sono due giocatori importanti per la categoria e credo e spero che ci diano una grossa mano. È un dato di fatto che stiamo bene, perché altrimenti non riesce a recuperare le partite negli ultimi minuti. Noi quest'anno l'abbiamo fatto più di una volta. La Vivo Stabia è una squadra che stava bene in salute, che veniva da tanti risultati utili consecutivi, che senza la penalizzazione aveva avuto 32 punti, quindi è una squadra da affrontare con le dovute attenzioni. Noi siamo stati bravi e fortunati alla fine, però credo che poi il risultato sia quello giusto. È stata una gara difficilissima anche per il loro cambio di allenatore, quindi quando c'è il cambio di allenatore c'è sempre qualcosa di nuovo e speriamo che per loro i risultati non cambino, anche se è un cambio di allenatore. Però per noi è una partita difficile, bisogna prenderla con le molle e andremo a Nocera a fare come al solito la nostra partita. È un campionato strano, io credo, non ricordo un campionato che ha 9 tra le prime 5 squadre con tanti punti in 4 punti. Saranno 5 mesi bellissimi da stare sul pezzo fino alla fine e poi alla fine tireremo le somme. Cerco sempre di dare il massimo in ogni posizione, anche se ormai la mia posizione è quella lì a destra e cerco di dare il massimo in ogni partita. Ovviamente ci possono essere alti e bassi ma l'importante è sempre dare tutto in ogni partita e dove vuole il mister gioco non c'è nessun problema, ma come anche gli altri ragazzi. Penso di aver fatto bene fino adesso ma non mi devo accontentare di niente perché anche l'anno scorso la prima parte avevo fatto bene e poi non è andata a finire così. Il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo per il Sassuolo, poi a livello personale viene in secondo piano. Sappiamo che il campionato di Serie B è così, infatti abbiamo una rosa ampia, una rosa competitiva in ogni settore, quindi non penso che ci dobbiamo preoccupare di queste partite una dietro l'altra. Sono tutte partite difficili come il campionato di Serie B e dobbiamo prepararci al meglio, sicuramente non si decide qua ma ogni partita è importante. Andiamo là in un periodo non facile per loro, ovviamente hanno cambiato allenatore, è un campo difficile e anche i tifosi sono molto esigenti nel loro piccolo, quindi dobbiamo andare con la mentalità giusta perché sarà una partita molto difficile sicuramente.